Oggi rispondo a Vanni che ha commentato il mio video sullo sconto in fattura. Buonasera Inge, si può accedere al super bonus intervenendo su una casa riscaldata con un solo camino? Allora caro Vanni, l'agenzia delle entrate ha più volte puntualizzato che sia per il super bonus che per l'ecobonus con l'aliquota più bassa è necessaria la presenza dell'impianto termico, quindi prima dei lavori l'edificio deve essere già dotato di impianto termico. Ma cosa si intende per impianto termico? Vanni, sei proprio fortunato! Infatti, l'altro giorno è cambiata la definizione di impianto termico, è questa cosa casca a fagiolo. Difatti, secondo il decreto legislativo 48 del 2020, qui devo leggere, l'impianto termico è un impianto tecnologico fisso quindi non può essere, che ne so, ad esempio quelle stufette elettriche che sposti da una camera all'altra destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti quindi un generatore o che riscalda o che raffresca o che faccia tutti e due con o senza la produzione di acqua calda sanitaria, quella per intenderci quella dei rubinetti o destinata alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari. In pratica, se hai uno scaldino di quelli elettrici che funziona solamente per riscaldare l'acqua che poi utilizzerai nei rubinetti, non è considerato un impianto. Rispetto alla vecchia definizione di impianto, è scomparsa la potenza minima che deve avere un generatore per essere ritenuto un impianto. Si parlava di 5 kilowatt. Insomma, Vanni, sei proprio fortunato, cavolo. Ne segue che il tuo camino è fisso e, indipendentemente da quanta potenza genera, è un impianto. Quindi puoi accedere al super bonus. Sarebbe bastato anche un condizionatore oppure quelle stufette a pellet fisse. Anche nel caso dei ruderi, dove magari manca un pezzo di copertura o gli infissi che ti consiglio di ripristinare, puoi accedere all'incentivo, ma deve esserci almeno un impianto fisso. Se stavi pensando di demorirlo e ricostruirlo, è un altro paio di maniche e ne parlerò in un altro video. Prima di salutarti, non conta se realizzi solo il cappotto o altri interventi diversi dalla sostituzione del generatore. A prescindere, per accedere al bonus deve essere presente un impianto. Se hai dei dubbi, chiedimeli nei commenti e, come in questo caso, risponderò tramite dei video. Quindi, se vuoi restare aggiornato, iscriviti al mio canale e ci vediamo presto. Ciao!